Verona è uno splendido esempio di città sviluppatasi progressivamente nel corso di 2000 anni. Eccezionale testimonianza di arti e cultura, espressione dei diversi periodi che si sono succeduti. Il centro storico della città scaligera, dichiarato patrimonio dell'umanità per la sua struttura urbana e per la sua architettura, è uno spettacolare e scenografico esempio di integrazione artistica, urbanistica e architettonica. In ogni angolo della città sono visibili elementi che raccontano la sua storia millenaria, dal periodo romano a quello veneziano, dall'epoca medievale alla dominazione asburgica. Piazza Erbe ne è la massima espressione. Architetture dell'epoca romana, medievale e rinascimentale, armoniosamente integrate con quelle dell'epoca scaligera e dei palazzi ottocenteschi. A poca distanza, Piazza dei Signori, il Salotto di Verona, altro esempio di perfetta stratificazione storica, ornata dal monumento dedicato a Dante Alighieri. Appena fuori dall'antico centro, sorge l'edificio romano più conosciuto, oggi simbolo della città, l'Arena. Qui dove si svolgevano gli spettacoli dei gladiatori, da un secolo al luogo la celebre stagione lirica inaugurata nel 1913 con l'Aida di Giuseppe Verdi. Ogni estate Verona diventa il centro della lirica mondiale per l'alta qualità delle esecuzioni e l'imponenza degli allestimenti. L'estate teatrale veronese propone uno dei festival più importanti e prestigiosi di spettacoli shakespeariani. È anche grazie a William Shakespeare con la storia di Romeo e Giulietta che Verona è oggi una città ammirata e conosciuta nel mondo come la città degli innamorati. La casa di Giulietta con il suo celebre balcone, meta di migliaia di visitatori all'anno, rievoca la travagliata storia d'amore raccontata dal grande drammaturgo e poeta inglese. Dall'alto del colle di San Pietro, Verona mette in luce tutta la sua bellezza. Torri, palazze e chiese raccontano la storia millenaria e mostrano tutto il fascino di una delle maggiori città d'arte d'Italia. Un viaggio lungo la natura e le strade del gusto ci conduce nel cuore della provincia veronese, la Valpolicella, terra di storie e di antichi sapori, dove la tradizione vinicola domina su tutto come il vero elemento caratterizzante del territorio. Qui si producono pregiati vini conosciuti in tutto il mondo e raffinati secondo tecniche particolari ed uniche in Italia. Grazie per la visione!